Non mi prendi! Elliot! Mamma! Sento che andrà tutto bene, Rachel. Perché trasferirvi qui? Perché avete abbandonato Nate da solo, sottoterra? Non lo abbiamo abbandonato. Lui è sempre con noi. Ok, adesso tocca a me. Con chi stai parlando? Non hai notato niente di strano nel suo comportamento da quando ci siamo trasferiti qui? Elliot è uno specchio. È il riflesso delle sue emozioni e paure, signora. Tuo figlio ha espresso un desiderio ed è stato esaudito. non è il suo fratellino morto che va da lui di notte. Sei la madre migliore che un figlio possa avere. Non so più che cosa sia reale. Elliot, tu non vuoi fare del male alla tua mamma, vero? 섞are tutto bene, è perfetto di strano, Non so più che cosa sia reale.